Arcus Realistist sostanzialmente si occupa di consulenza a 360 gradi su immobili di cui gestisce la promozione, cioè che li ha realizzati, che li ha prima pensati, realizzati, costruiti e poi gestiti e in genere continuano a gestirli anche quando la struttura societaria è cambiata, quindi con delle partnership o proprio con delle cessioni. È un gruppo complesso perché in questo momento noi stiamo gestendo immobili molto diversi tra di loro, quindi due outlet di cui entrambi hanno, uno ha inaugurato una terza fase di ampliamento che Sicilia Auto Village, l'altro è Torino, su quale stiamo lavorando sulla seconda fase di ampliamento aperto nel 2017, abbiamo un terzo progetto su Roma e poi gestiamo Oreo, quindi uno shopping mall molto complesso. Quali sono le tre domande in un portafoglio così diversificato, le tre domande che però invece ricorrono per capire se quell'asset ha un potenziale? Ma devo dire che il percorso è quello che ha raccontato prima Corrado, cioè dove sono, cosa vuole il mio cliente e come fare tesoro dei nostri risultati. Sto andando meglio, sto andando peggio, devo migliorare cosa? E credo francamente una cosa che ho sentito sostanzialmente da quando sono entrato in questa stanza, flessibilità. Cioè io credo che noi non possiamo più continuare a dire ho la risposta. Noi oggi non abbiamo le risposte, abbiamo parlato di uno stress post-Covid, ma in realtà non è l'unico perché stiamo parlando di transizione climatica, stiamo parlando di tensioni internazionali, stiamo parlando di modifiche anche proprio intellettuali, di percepito cosa vogliamo noi. Noi siamo partiti e devo dire, ringrazio molto il professore, abbiamo parlato di sicurezza, di intimità, di sentirsi sociali e dall'altra parte stiamo parlando di macronumeri. Francamente credo che la prima cosa è che questi interventi vengono fatti per un cliente finale e noi dobbiamo sempre avere puntato chi è il nostro cliente, che cambia e quindi flessibilità. Una volta il ruolo era, firmo il contratto e poi ci vediamo alla fine del contratto, perché in realtà erano tutte macchine che andavano avanti in maniera abbastanza semplificata. Oggi non è più così perché ci sono delle esigenze di riqualificare, di rimmaginarsi, quindi devo rifare il locale nuovo, devo riscutere un progetto più a lungo termine, quindi devo dire il contatto con l'imprenditore, io chiamo imprenditore sia l'affigliato che il grande brand, sicuramente è più continuativo. Poiché tutte le figure oggi ci siano per fare anche questo lavoro di collegamento dalla firma del contratto alla firma del contratto successivo è un tema che secondo me andrà affrontato. Anche all'Italia è stata gestione, cioè di uffici dedicati, grandi uffici commerciali però poi non c'è solo la vendita, c'è il post vendita. Quindi quello che dico è che questo esempio dall'azienda Chico Arsana è un esempio fuori dal coro. Con Chico che ha fatto una refurbishment importante durante il Covid, devo dire che in minorio tantissime aziende hanno immaginato quel periodo per un periodo di respirazione, di meditazione, non posso lavorare, mi preparo al dopo e quindi devo dire che tutto Chico ha fatto questa attività. Quanti metri è? Non è molto grande. Sono circa 350 metri, è un operatore storico, per noi è presente dal 98 quando abbiamo aperto, ha un team molto consolidato. Da sempre l'azienda Chico come l'azienda Prenatal fanno attività all'interno del loro punto vendita di formazione al genitore, al neogenitore. Lei ha detto ma perché non portiamo questa cosa in galleria? Cioè perché non ci immaginiamo che anziché farlo nel punto vendita, che al massimo può accogliere 10, 15, 20 persone non facciamo un evento. Abbiamo fatto questa proposta, ovviamente noi abbiamo dato un sostegno marketing perché lo possiamo fare, perché abbiamo una persona dedicata che si occupa di marketing, abbiamo un social che funziona molto bene e da fonte indipendente è quello più riconosciuto e quindi abbiamo una risorsa che non sempre è presente, quindi devo dire abbiamo iniziato a parlare, quindi il mio referente immobiliare, io, il marketing e le persone che all'interno della struttura si occupano di questo. Abbiamo fatto tre lezioni sulla sicurezza, sicurezza in macchina, sicurezza in casa e la sicurezza sulla occlusione. Hanno partecipato circa 50 persone in una zona della fase 3, quindi zona food, quindi in qualche modo c'è stato anche un coinvolgimento di un paio di altri operatori che hanno fatto un piccolo cadeau piuttosto di una colazione a parte. Ecco io credo che quello sia stato un elemento virtuoso, l'idea c'era... Intercettarla mi sembra la parte difficile. Secondo me intercettarla e avere le persone che lo seguono, perché in realtà a mio avviso manca oggi, e questo per me è il tema dopo, le persone o le professionalità, cioè lo può fare anche paltrinieri, ma paltrinieri fa un altro mestiere e per fare questo deve avere qualcuno del marketing. Credo che da questa cosa debba nascere un progetto virtuoso, ma per fare questo bisogna avere persone dedicate. Dall'incontro di oggi mi porto a casa il convincimento che il retail è un settore vivace, dinamico, sempre di più industria, con interlocutori appassionati con voglia di portare innovazione, ancora innovazione.